Tragedia consumata a Reggio Calabria. Un uomo di 76 anni è morto la notte scorsa a causa di un incendio divampato nel suo appartamento. Il fatto è accaduto poco dopo l'una quando due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Nicola Furnari. Due autopompe e un'autoscala hanno supportato gli uomini del comando provinciale che sono riusciti non senza difficoltà a distinguere le fiamme ed evitare che le stesse si propagassero alle case attigue. Purtroppo nulla da fare per l'occupante dell'immobile ritrovato già esanime dai soccorritori all'interno della propria stanza da letto. È stata avvertita la procura della Repubblica che ha avviato accertamenti per stabilire le cause del rogo.